Ciao, sono Daniele, conosco YourForex da circa un anno. Sono approdato sulla loro pagina di YouTube principalmente perché cercavo un metodo, una metodologia con il quale potessi approdare a un metodo di trading molto più professionale, imprenditoriale e volto anche a un aspetto un po' più mentale di mindset, perché ho subito intuito che la problematica maggiore era il mindset del far trading. Ho avuto esperienze negative nel mondo delle criptovalute, per cui ho fatto un passo indietro e mi sono guardato intorno e su YouTube cercando un corso di swing trading più che altro su lunghi trend frame ho subito combattuto il loro. Mi sono piaciute tantissimo le playlist sul mindset, per cui ne ho viste veramente diverse ore, ne ho subito finché ho deciso di contattare Arduino e da lì inizia l'avventura. Ora sono in Accademia, sono molto soddisfatto per la loro professionalità, umanità e gestione in generale di tutto questo percorso che anche per loro è una prima esperienza e devo dire che si stanno comportando perfettamente, per cui lo consiglierei a chiunque.